E' una settimana che non ti sento, sarai mica morto? E' quella sceva santarellina di tua moglie che ti monopolizza, eh? Ti telefono domani in ufficio. Ciao, micione santo. Beh, che mi prendi adesso? Il micione santo è morto e io so che non me ne importa niente. E allora? Sì. 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 Alla tua salute, Cornuta. Sì. 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 Sì.